direttiva case green in gazzetta ufficiale europea ora è ufficiale lo era già ma essendo stata pubblicata in gazzetta ufficiale precisamente il ti lascio in descrizione comunque l'otto maggio 2024 pubblicato un pdf se lo scarichi è un pdf di 68 pagine con tutte le indicazioni che dovranno essere recepite da qui a due anni dagli stati membri quindi dall'italia per ridurre il consumo medio di pari al 16 per cento meno 16 per cento entro il 2030 e poi il 20 22 per cento entro il 2035 con l'obiettivo emissioni zero emissioni zero al 2050 gli unici a votare contro quando alle ultime le ultime votazioni sono stati italia e bulgaria ungheria bulgaria italia e ungheria hanno votato contro la direttiva perché perché il green è passato di moda non porta più voti sintetizziamo velocemente due anni di tempo per recepire la direttiva le ristrutturazioni dovranno pervenire principalmente per la maggior parte dai residenziali esistenti farà gioco dal 2020 ciò che è stato fatto col super bonus quindi ora sarebbe vabbè e secondo il sole 24 ore per poter arrivare agli obiettivi richiesti i ritmi sarebbero quelli del super bonus quelli che si sono tenuti nel 2021 ma lasciamo perdere sarà difficile ci saranno riordini di agevolazioni probabilmente perché scadranno tutte quest'anno ci saranno modifiche normative purtroppo non ho un buon presentimento per tutto quello che arriverà mi spiace ma ad oggi non ci sono buone prospettive anche visto i modi con cui sono stati fatti gli ultimi interventi normativi 16 per cento dei consumi che dovranno pervenire appunto da gli edifici di edilizi gli edifici perdonatemi ma come ho annunciato nel video precedente sono reduce da un intervento e quindi le mie facoltà sono al 60 70 per cento tengo la percentuale così vi aggiorno devono pervenire la maggior parte degli edifici esistenti Giorgetti ha dichiarato abbiamo purtroppo esperienze note in italia riferendosi non so a che cosa di preciso è una direttiva bellissima ambiziosa ma alla fine chi paga questo fa capire come stiamo andando purtroppo c'è tutto un filone anti transizione ecologica purtroppo ci sono tantissimi che sono contro l'utilizzo delle fonti rinnovabili probabilmente plagiati dalla comunicazione che è stata fatta da quelle notizie che vengono date per plagiare le masse e fare in modo che maturino un'idea specifica per evitare di non sganciarsi dal vecchio perché il vecchio porta soldi a chi a chi è già al potere esentati gli edifici sottoposti a vincolo quelli per la difesa le seconde case utilizzate meno di quattro mesi edifici provvisori religiosi immobili sotto i 50 metri quadri non prevede specifiche sanzioni la direttiva essendo tale ci saranno solo eventualmente non dovessero essere rispettati i termini delle delle procedure di infrazione nei confronti dell'italia quindi ogni stato dovrà procedere con la legiferando e prevedendo eventualmente delle sanzioni per chi non rispetterà gli obblighi se obbligo diventerà mi sembra impossibile che possa diventare un obbligo ristrutturare la propria casa anche perché come ho detto tante volte se io non ho possibilità se non ci sono incentivi adeguati se il mio edificio anche energivolo per a me sta bene così com'è mi animi a obbligare a ristrutturarlo puoi abbassare puoi disincentivare la compra vendita all'affitto puoi fare tutto quello che vuoi ma se io io il mio edificio dove abito se non voglio non voglio indebitarmi sono libero di farlo grazie con questo concluso ci vediamo al prossimo video grazie a tutti